salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video oggi facciamo la recensione di resident evil 4 remake un gioco che sta vendendo un casino era prevedibile ma veramente sta piacendo a tantissimi e devo dire vi immediatamente subito che è piaciuto tantissimo anche a me infatti come vedrete probabilmente nel titolo questo è un gioco che vi consiglio caldamente di giocare sia che voi abbiate giocato e consumato l'originale resident evil 4 che invece non abbiate mai giocato questo gioco in realtà cosa che è per esempio il mio caso infatti io non avevo mai giocato a resident evil 4 anche perché in quel periodo storico diciamo che ero diventato un super pc gamer e insomma giochi per console non li avevo più considerati quella parte degli anni 2000 quindi quando ho saputo che sarebbe uscito un remake di questo che è definito da sempre il miglior resident evil mai fatto nonché uno dei migliori giochi in generale di sempre molti pensano questo dell'originale ero super curioso veramente molto curioso e quindi insomma l'ho preso l'ho comprato e ci ho fatto 18 ore circa a difficoltà normal e oh my god oh my god this game is awesome veramente un gioco veramente estremamente ben fatto estremamente divertente e adesso ne dobbiamo parlare un pochettino per completezza iniziamo col dire che ho giocato la versione pc su steam che fortunatamente rispetto agli ultimi tempi non mi ha dato particolari problemi ultimamente i port su pc e versioni pc sono molto problematiche l'unico neo è che se giocate con il race tracing attivo ci possono essere dei problemi infatti se sforate la vram il gioco crash ha questo bug ora non so se l'hanno già fixato lo patcheranno in futuro probabilmente però è così invece se giocate senza ray tracing anche se sforate la vram non succede niente a parte questo e ho provato a giocare anche con ray tracing non c'è tutta questa differenza nell'illuminazione è molto buona anche senza ray tracing quindi non è quasi dimenticabile questa problematica detto questo gira bene decisamente bene su una 30 70 1440p e 2k di risoluzione quasi tutto maxato al massimo tra gli 80 e 120 frame liscio con un ottimo colpo d'occhio perché il gioco è stato fatto molto bene col range interno di capcom quello stesso dei remake resident evil 2 resident evil 3 credo sia esattamente lo stesso anche di resident evil 7 8 insomma quel motore grafico è molto molto buono molto duttile e ha una resa eccezionale in questo gioco la quantità di dettagli è altissima le texture sono curatissime e comunque il gioco è stato fatto in un certo modo e quindi è super curato anche nei minimi dettagli è un gran bel vedere anche a livello di illuminazione anche perché è un gioco che vuole essere abbastanza dark come detto io non ho giocato l'originale però so che ci sono un po' di differenze anche sul tono nel senso che l'originale era forse un pochino più cazzone anche la trama era un pochino più trash tipo serie b movie horror questo è simile però mi è sembrata una trama decisamente più seria nel senso nei dialoghi cioè lyon fa sempre il cazzone ogni tanto ok è divertente però c'è un tono un pochino più serioso un po' più dark quasi dark fantasy in realtà per tutto lo svolgimento ecco siamo in questo villaggio dove succedono cose ci sono ovviamente delle implicazioni di infezioni virus o più che altro esperimenti c'è molto esoterismo all'interno e comunque insomma il taglio è abbastanza tutto sommato serio e anche il rapporto con la nostra Ashley che da quanto sapevo nel primo era abbastanza noiosa diciamo così dato che dobbiamo fondamentalmente salvarla e lei si lamenta sempre ecco in questo remake fondamentalmente lei in realtà è abbastanza pacata l'hanno un po' riscritta nei dialoghi nell'atteggiamento e va benissimo così secondo me gira benissimo il loro lavoro di coppia e in generale tutto lo svolgimento della trama fila da dio ma perché è un gioco così meraviglioso vi direte voi beh semplicemente perché è proprio un videogioco a tutti gli effetti nel vero senso della parola quindi è abbastanza arcade per certi versi e soprattutto è fun e divertente ha delle meccaniche che vi fanno intrattenere e divertire il gameplay in particolare è molto dinamico a differenza dei primi resident evil che erano un pochino cioè un pochino molto più survival horror con munizioni limitate e un pacing molto lento qua il pacing è decisamente molto più veloce e ben ritmato ci sono parti estremamente action dove ci sono tantissimi nemici da affrontare il numero di munizioni è adeguato almeno a livello normal non è mai incredibilmente alto anche se verso la fine lo diventa però è bilanciato e vi permette di affrontare comunque con tranquillità le orde di nemici che vi si pongono davanti ma soprattutto in questo remake hanno cambiato un po il combat system rispetto all'originale anche qui ho leggermente studiato un poco come era il primo la differenza più ovvia è che nel primo c'era la mira diciamo automatica quando mi avrete mentre qui potete decidere dove mirare in particolare io ho giocato la prima parte col pad ma poi ho switchato mouse e tastiera e direi che ve lo consiglio sono giocato su pc secondo me molto più divertente mouse e tastiera perché siete molto più precisi nello shooting e la precisione paga perché comunque i nemici hanno degli spot di debolezza per esempio nelle ginocchia nella testa o hanno degli specifici punti deboli dove fate più danno e quindi essere precisi conta ma appunto è un gioco divertente arcade per quanto lyon si muova con una certa in realtà lentezza o soprattutto nello scatto che è molto lento quindi c'è della pesantezza nei movimenti quasi realistici ma poi quando ci sono dei sorti di quick time event o delle fatality possiamo dire così nel momento in cui stordite l'avversario potete fare un'esecuzione col coltello oppure un colpo molto forte col calcio rotante ecco in quel caso il gioco diventa super arcade e l'animazione è istantanea quindi c'è una parte diciamo di semi realismo nei movimenti e anche degli avversari che non sono super veloci è tutto un pochino più lento nei movimenti però poi quando serve è super arcade super veloce per esempio anche nello switch delle armi o comunque in quello che succede in generale nel gioco è proprio molto videogioco ed è molto videogioco anche perché ci sono cose laterali tipo side quest dove dovete completare missioni c'è il poligono di tiro del mercante dove praticamente serve solamente per sbloccare dei piccoli potenziamenti e solo per divertimento extra oppure tutta la parte di esplorazione extra che vi serve per trovare i tesori c'è tutta una questione dei tesori gioielli tesori che possono essere montati potete fare il mini maxing dei tesori nel senso che ci sono appunto dei pezzi diciamo di antiquariato che trovate alcuni hanno dei castoni trovate anche delle gemme potete mettere le gemme nei castoni e anche secondo con che sequenza e disposizione mettete aumenta il valore di quell'oggetto da vendere che poi il mercante ovviamente vi venderà upgrade armi munizioni tutto quanto quindi è proprio videogioco al 100% anche da questo punto di vista la parte arcade è preponderante oserei dire ma la parte più divertente è proprio il gameplay puro quindi lo shooting e come ci si muove nelle varie arene una volta che avete masterato un pochettino il sistema di mira il sistema di stordimento e anche sono lo switch delle varie armi che poi andate a comprare a scegliere voi quali utilizzare tutto diventa molto fluido ed estremamente divertente non vedete l'ora di beccare la prossima orda per cercare di fare delle belle combinazioni tra granate colpi di fucile colpi di pistola e quant'altro inoltre devo dirvi che a giocare a normal è uno dei normal più bilanciati degli ultimi tempi nel senso che di solito i normal come difficoltà sono molto semplici qui invece ogni tanto si muore devo dirvi che quindi è abbastanza bilanciato sia nella quantità di risorse che vi dà per permettervi di andare avanti a livello di munizioni cure che la difficoltà stessa quindi decisamente bilanciato se volete però delle sfide più alte c'è un livello di difficoltà più alto e quando si finisce il gioco un altro ancora più alto quindi avete voglia inoltre è pensato come molti giochi capcom super arcade anche per speed run e cose simili ci sono anche achievement solo per questo tant'è che ci sono dei metodi per schippare intere pezzi di gioco apposta uno per tutti all'inizio nel villaggio invece di dover scappare dall'uomo con la motosega insomma tutto quanto potete semplicemente salire su un tetto sparare la campana e schippare tipo 10 minuti di gioco questo si può fare in vari punti se sapete cosa fare proprio per le speed run quindi è proprio come ho detto un videogioco proprio al 100 per cento super incentrato sul gameplay e il divertimento e vi devo dire che ha veramente pochi difetti perché è veramente curato nei miei dettagli sia a livello di trama appunto quindi c'è la trama è anche interessante non è troppo trash e vi tiene comunque se non la conoscete col fiato sospeso tra virgolette fino alla fine anche se è proprio quel taglio action da film blockbuster anni 90 e soprattutto c'è un pacing come detto prima molto ben bilanciato tra i momenti di azione i momenti più calmi con un escalation notevolissima verso la fine del gioco proprio gli ultimi due capitoli c'è proprio un apice incredibile di azione di nemici di anche munizioni che vi vengono date per affrontare la situazione nonché di eventi anche scriptati super fighi e boss fight quindi fino proprio alla fine godete tantissimo quindi non ho veramente nulla da dire contro questo gioco solamente estremamente consigliato probabilmente al momento adesso di questa recensione è uno dei migliori giochi di quest'anno senza dubbio certo non uscirà tanta roba da qui alla fine dell'anno ma per adesso è super candidato mi avviso a goti 2023 quindi se avete l'occasione di prenderlo provatelo sicuramente vale assolutamente il vostro tempo questo resident evil 4 remake hanno fatto un lavoro eccezionale detto questo ragazzi il video è finito vi saluto ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sul gaming a 360 gradi e grazie per la visione grazie per il supporto statemi bene come sempre un salutone ci becchiamo alla prossima ciao ciao